Ciao a tutti! E a grandissima richiesta, eccomi con la seconda parte del video in cui vi mostro i meravigliosi capi di abbigliamento che mi ha gentilmente inviato l'azienda AlsVivid. Un brand che, come vi ho detto nel video precedente, si caratterizza per l'altissima qualità, i prodotti sempre di moda e di tendenza e i prezzi bassi. Inoltre, potete acquistare i loro articoli direttamente dal loro negozio su Amazon. Come sempre, vi lascio qui sotto in descrizione il link diretto al negozio del brand e i miei social, così potete rimanere aggiornati su tutte le novità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!